e gli appenni here we go Giuseppe Formante subito davanti caduto ieri porta i segni almeno la fasciatura per la caduta niente di grave per lui ieri e adesso si mette subito in testa Nicolás García all'esterno Timothee Lubinó adesso il Bad Swings che si porta davanti poi il nostro amico Andrés Gómez Bad Swings, Timothee Lubinó 160 warning 160 warning bravante Bad Swings, Timothee Lubinó Andrés Gómez, Nicolás García nelle prime posizioni girano già sul piede di 17 secondi a giro 41 km orari circa sembra che badano tranquillizzi o no yeah they're running at the 17 seconds per lap pace means 41 km per hour and now the bell and the next next time for the finish line it will be points points, 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 points punta, 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 puntos, puntos, puntos number two, 77, two points number two, nine, one points è determinatissimo Giuseppe Bromante oggi è anche un po' di rabbia per lui da scaricare quindi lo aspettiamo in finale adesso Timothee Lubinó con Andrés Gómez poi Bad Swings è un parter de roi di questa semifinale Andrés Gómez ieri in grandissima condizione ha aiutato il compagno a vincere il titolo mondiale number eight, eight, two points number two, twenty nine, one points e quindi abbiamo tre atleti a due punti Andrés Gómez giuseppe Bromante e Bad Swings siamo in qualifica passeranno in quindici e avremo la prima eliminazione number one, four, seven, eliminato Egitto cento quarantasette, eliminato Egitto number eight, eight, two points number twenty nine, one points number forty, eliminato number forty, eliminato 116, 160, 160, warning, 160, warning number three, nine, six, two points number two, seven, seven, one point 160, second warning, 160, second warning number one, seven, nine, two points number eight, eight, one point number 17, eliminated number 17 number 17, nine, two points number 88, one point number two, seven, 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 two points number five, four, one point number two, seven, seven, two points left side, uno point Blue, one point, one point found out another, three point number 23,一次ound, cor수ую прокénsisk kemudian, si,leriśli, si, di Leipur, si,i, ri, si,i, 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 iya, si,i, 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 si,i. 179, 2 points, number 29, 1 points. Number 330, eliminated, number 330, eliminated. Number 29, 2 points, number 179, 1 points. Number 54, 2 points, number 135, 1 points. Number 122, eliminated, number 122, eliminated. Denmark. Two laps to go, two laps to go. But swings, Brahman, they can go. Number 29, 2 points, number 277, 1 points. Nils Bühleman, Nils Bühleman, nella prima di quattro posizioni. Grande dimostrazione del nostro miglior fondista. Giuseppe Bramante arriva, insieme con Kenka Waterberg, Nils Bühleman e Marco Lira, non è male, con Andres Gomez e immagina. Questa era solo la semifinale. Ci scusiamo se non procediamo al commento. Number 277, 3 points. Number 7, 2 points. Partenza regolare, 25 giri per i 22 atleti in pista. In questo momento, ricapitoliamo, 25 giri del percorso, a meno 21 sarà campana, poi al passaggio successivo sarà assegnazione del punteggio e a meno 15 sarà eliminazione. e i primi 15 andranno in finale. ed è ancora Messico Francia Nelle prime due posizioni al passaggio meno 22, gruppo allungatissimo, quindi già l'andatura è alta. 3, 93, warning, 3, 9, 3, warning, Chinese Taipei. Well, next lap for points. ed è, abbiamo sentito la campana, adesso è il colombiano, colombia, ecuador, mexico. Le prime tre posizioni si va adesso, points, points. 91, 132, 91, 132, 91, 132. Della colombia, ecuador, adesso è meglio Francia, nuovamente campana, Martin Ferry, e... Piccolo gap per i due atleti, ed è adesso Svizzera che si mette in testa del gruppo. Belgio, Francia, 378, 28, 378, 378. Ed era, quindi... I due atleti adesso con una curva di vantaggio... Ok, points at previous lap, 176 and 28, 176, 28. Francia, Belgio, Ferry. Number 300, eliminated, 3, 0, 0, eliminated. Siamo entrati nel vivo anche dell'eliminazione. Points, 176 and 28, 176, 28. Junior lady in call area, please, junior lady in call area, please, please. Ed è ancora... The break away for... Francia and Belgium. Numero 203, eliminato, 2, 0, 3, eliminated, 2, 0, 3. Quindi Belgio, Francia, in fuga in questo momento, Svizzera. Punti. One seventy six, twenty eight, 176, 28. Five six warning, five six warning, Cile. Ed è ancora... Fuga per Belgio e Francia. Quattrocento venti, eliminato, 4, 20, eliminate, 2, 4, 0. 4, 2, 0. Punti. Ventotto, 176, 28, 176. Two eight, zero warning, two eight, zero warning. Italy. E ancora continua il duo di testa Francia-Belgio. Adesso è Repubblica Ceca. Punti, 176, 28, 176, 28. Three seven four warning. Numero 312, eliminato. Three, one, two. Number four, 20, stop skating, please. Quattrocento venti, fermarsi. Number four, two, zero. One fifty eight, eliminated, one five eight, centocinquantotto, eliminato. Punti, ventotto, 176, 28, one seventy six. And the Peloton close the gap in this moment. Numero 106, eliminato. One oh six, eliminated. One oh six, eliminated. One oh six, eliminated. Punti. Eighth warning. Cento settantasei, ventotto. Punti, one seventy six, twenty eight. Eighth warning, eight warning, Argentina. Three nine, three warning. Three nine, three warning. Cento diciotto, eliminato. One one eight, eliminated. Un oh six, eliminated. Un oh six, eliminated. Un oh six, eliminated. Novantuno, trecentosettantaquattro i punti. Ninety one, three seven, four. Three five, two warning. Three five, two warning. In the line, two laps to go. Due giri al passaggio. Eliminazione, quattrocentoquaranta. Four four zero, eliminated. Four four zero. colombia, ecuador. Nelle prime due posizioni, colombia, ecuador. In the first and second place. Now Argentina inside. Punti, novantuno, trecentosettantaquattro, ninety one, three seven, four. Ultimo giro. One laps to go. Four four zero, eliminated. Venezuela, stop. Four four zero, eliminated. Stop. Eliminazione. E si è conclusa anche questa seconda semifinale. Gara punti e eliminazione. Adesso sarà.